Possiamo prendere davvero una macchina? Io voglio questa Io voglio questa Aspetta, ok, ok, voglio questa Oddio, velocissima, pronta? Aiuto! Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph Ecco se giochiamo a Roblo E a grande richiesta Oggi finalmente giocheremo ad un escape E in particolare stavolta dovremo scappare da un malefico bagno Perché sembra davvero terribile, ti dico la verità Esattamente, mi sono guardato un po' intorno E ci sono tante cose strane che non mi spiego Quindi iniziamo subito che meglio Siamo stati invasi da un sacco di consolini Che sono qui a fianco a noi Ad aspettare che iniziamo Assolutamente E siamo pronti Dobbiamo fare un parkour tra dei panini Che finiscono dentro la bocca di un tizio Credo che in questo modo poi arriveremo al bagno Non vorrei andare oltre coi dettagli Perché secondo me E beh i panini una volta mangiati dove vuoi che finiscono No, 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 no In un posto speciale Non prendiamo questi discorsi adesso Esatto Ok È meglio così Adesso guarda Dopo i panini giustamente È anche una bellissima bevanda Per mandare giù i panini Per rinfrescarti giustamente mi sembra buonissima Adesso Allora Non lo so Dobbiamo saltare o andare dritti No, ok Andare dritti Andare dritti Andare dritti Ho avuto un po' di paura Aiuto Forza Salta Salta Uno Due Tre Ok Andata 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 Ok Allora Sapone per lavarsi le mani Guarda Ti faccio tutto di fila L'importante è provarci Mi fai ridere e fai cadere pure me Guarda Sì Ma ti sembra che devi fare queste cose Forse è quello il problema Forse è quello il problema Forza Forza Venga Venga Ma secondo te devi saltare sul sapone proprio basta anche Dove vuoi Ah ok Dove vuoi I saltellini extra mi fanno sempre paura Questo lo odio sempre Perché uno su tre funziona Gli altri due ti fanno cascare di sotto E non sai mai qual è quello giusto Sappiamo solo che il blu è il primo ed è giusto Guarda come hanno tutti paura Esatto Infatti sto aspettando che facciano la prima mossa agli altri Forza Fate i coraggiosi Allora io ci provo Giallo È il rosso Mi ha detto fate i coraggiosi Mi hai incoraggiato E poi mi fai morire Forza E il bello è che poi io neanche me le ricordo a memoria Allora era blu Rosso giallo Rosso giallo Sì e poi blu Ok 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 E adesso Sei pronta Dobbiamo fare la cosa più bella di sempre Cosa Scalare la carta igienica Ma no Cosa è successo Mi hanno dato uno spintone Mi hanno fatto volare via Ma non è possibile Vabbè avevo preso il checkpoint e sono qua Ti dicevo Vedi Dobbiamo scalare la carta igienica Andiamo Scaliamola Scaliamola Bellissimo Chi è che non vorrebbe mai scalare una carta igienica nella propria vita Scusami Ma no Non li sopporto quelli che si muovono Tutto di fila Tutto di fila Tutto di fila Ok È andata Sì questa volta ha funzionato Bravo Ogni tot minuti devi fare un tutto di fila Capito Vai a fare anche questo Tutto di fila Tutto di fila Tutto di fila Tutto di fila Perché ti ascolto Perché ti ascolto e faccio queste cose terribili Perché ci divertiamo di più così amica mia Non siamo amici grazie No Io non li sopporto questi Perché non riesco a fare Non siamo amici No Perché è morta Perché non siamo amici È finito Ok abbiamo già finito Perfetto Facile Facile E questo sì è stato molto Molto facile Oh aiuto Molto facile Andiamo a vedere cosa c'è alla fine Vieni Perché io ho visto una cosa particolare Che devo capire Esatto E tanto è sempre pieno di cose divertentissime Quindi possiamo giocare Non guardarti intorno Oh mamma mia Sei Spider-Man Ciao Guarda la mia faccina Come stai? Posso mettermela anche le faccine? Non lo so Sei Spider-Man No Niente facce per Spider-Man Ehi Ferinichi Sono Billy Come stai? Dove l'hai trovata? Dove l'hai trovata? Come hai fatto? Non te lo dirò mai Come hai fatto? Sono una testa gigante Sono una testa Aiuto Non vedo nulla Sono Spider-Man Ma pure una mucca Credo che sto dando fastidio A chi sta iniziando Che dici? Decisamente No guarda Proprio una mucca Piazzata così lì gigante Sono tranquillo Che non dà fastidio a nessuno Ma io sono Spider-Man Tranquillo Nuova corso Nuova corso e il nuovo escape Perché sì In questo tipo di video Credo che faremo Due Tre escape Dipende da quanto durano Ogni volta nel video Così è più divertente Facciamo vedere giusto le parti più belle Esatto E questa volta Questa volta non lo stavi dicendo Dovremmo scappare da un campeggio Che dico io Chi è che vorrebbe scappare da un campeggio No Sono bellissimi Danzare Gente antipatica Ma allora L'unico tipo di cose sei tu Perché è bellissimo Mangiare all'aperto Arrostirti le cose nel fuoco Vai in campeggio Allora vada Guardare il cinema Io scappo Perché c'è sempre il cinema nel campeggio Ma quando mai il cinema Andiamo Non ci sei mai stato in campeggio Guarda Qua si inizia già in modo un po' più complicato Ok Se colpiamo il centro ovviamente caschiamo Appena visto una persona morire alla fine Poverino Che cosa brutta A morire proprio Che belline le tende Come le hanno fatte Allora io mi stavo guardando un pochettino intorno Mi piace davvero un sacco Questo di ambientazione Era carino il bagno Ma è carinissimo anche questo Hai visto anche le casette in legno Che belline Sì Proprio del campeggio E questa è la rete Ciao La rete elettrificata di sicuro Per non farti scappare Vuoi provare a toccarla? Per non farti scappare dal campeggio Clicca uno Aspetta Ma io ho una torcia Perché ti sei accappotata da me? Riclicca uno Ah ok Perché anch'io ti vedo Ok ok Anch'io ti vedo coricato Invece uno è la torta Dica uno Tantissimo Che bug Ok Andiamo 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 Ma che ne mi vedi camminare coricato? No ti vedo coricato fermo Esattamente dove ti avevo lasciato Allora Aspetta che la tolgo la torcia Che perfetto E infatti adesso ti vedo lì Evitare vari bug Uh Queste sono le torce Che fanno dei raggi Che vanno saltati Bellini Torce radiate Allora Quickly Hike your way up the mountain Ok Andiamo Dobbiamo scalare Ah ok grazie Grazie che ci hai avvisato Che dobbiamo scappare da questa parte Non si era intuito eh Uh Questa è una bella scampagnata Poi questa è lava o sangue? Speriamo nessuno dei due Allora Allora Lei è un po' inquietante Signora Boy Scout Auto come si deve chiamare Cioè fa un po' paura Non dica queste cose Allora saltiamo Uno Due Tre Ok E poi c'è anche il labirinto Fai attenzione È più che un labirinto È un percorsino È un percorsino In cui non devi toccare questa cosa rossa Fare una cop parkour Qualunque questa sia Adesso dove si va? Qui Qua Dobbiamo scendere Oh mio dio Attenta Uh bel salto Ok And Non ci No Mi stai facendo arrabbiare Non fare la pazza Sì che faccio Andiamo Andiamo Mi si è aperto un inventario Mi abbiamo altre cose No No Ok Uh belle queste canoe Barche Barchette Io le chiamerei barchette Allora Aspetta I have a feeling so strange It's going here No ci sono soltanto dei palloni volanti Sì Ha detto che praticamente Ha la sensazione che sta succedendo qualcosa di strano Che succede? Uh Bello questo No non l'hai visto No Guarda sopra la montagna alla tua sinistra Ok Lo riconosci? No Ha una maschera e una motosega Oh mamma mia Oh mamma mia Si sta tramutando in un film horror E vedi che c'è del sangue lì sotto per terra? Guarda per terra sotto Più giù Più giù Più giù Più giù Lo vedo sì È che sto guardando quello con la motosega Allora stiamo scappando perché c'è un assassino C'è questo Centizio morto Dove? Cioè questo è un film horror allora Non è così bello questo campeggio Vedi che i campeggi sono sempre brutti? E nei film horror sì Allora Mamma mia Scappa veloce Sì scappa Aiuto La nave di Capitan Jeff Ho distrutto anche la nave di Capitan Jeff Corriamo Jason no non si fa Corriamo Veloce Veloce Dobbiamo andare ad aggiustarla immediatamente Questa cosa è importantissima Oh no Di nuovo Oh no Dobbiamo scegliere quello giusto Questa volta non abbiamo Ok questo Questo Che fortuna Uno l'hai scelto tu Ora tocca a me Vai Se il primo è lì Il secondo è qui Oh mamma mia Ma com'è possibile che ci stiamo riuscendo E il verso è qui Allora Sì Proviamo questo Ok Ok era l'altro A destra A destra Allora quindi era Mi sembrava strano che avessimo tutta questa fortuna Tutta in una volta Destra Centro destra Ok Ok Destra Tutto a posto sì Centro Ho paura Non me lo ricordo più Ho paura E destra E l'ultimo poi Sinistra Oh Bello Andato Mamma mia Steph nella lava Ma è buggatissima Cioè non dovrebbe rimanere là Vai 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 Forcia forcia Andiamo Arriva Ok Adesso Uh stiamo entrando in una caverna No Allora c'è un assassino nei pareggi E noi dobbiamo entrare in una caverna Ah corri 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 Oh mamma mia Vai via vai via vai via Vai via Lava 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 È velocissimo poi Guarda come si muove in tutti i costi Mi sa che siamo entrati dentro un vulcano Dici Eh mi sa proprio di sì Sì è tutto infuocato Avrebbe davvero davvero senso La nostra solita fortuna Bello Guarda chi abbiamo davanti Di nuovo Vai via Giù 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 Guarda me alla fine dell'escape ci fa fette No che figata guarda Che bello questo È difficilissimo con le funi Aiuto Bello Mi è piaciuto un sacco Questo era fantastico Forza 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 Aiuto È davvero difficile Hai un assassino sopra la testa Corri E lo so infatti mi devo muovere Eccomi 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 Ok Uh bello anche questo Sulle foglioline Pa 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 Perfetto Oh no È proprio a fianco a noi Adesso è sul gommoncino gonfiabile Si sta divertendo Si sta davvero divertendo Guarda Di nuovo Allora Allora guarda che signor maieleno è più malefico di te caro Jason Quindi non ci provare Vattene via Non ci provare Allora possiamo prendere davvero una macchina Io voglio questa Io voglio questa Aspetta Ok Ok Voglio questa Oddio è velocissima Pronta Aiuto Mi potevi avvisare che era così fuori di testa Te l'ho detta è velocissima Si ma non pensavo così tanto Vai sali di nuovo Aspetta No devo farla sponare Eh si certo Vai Ok ecco Allora piano piano No ma dobbiamo schivare le rocce Ma è troppo veloce Come facciamo Vai 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 Io vado a tutta velocità Guardami Volo No aiuto Ma scherzi È fantastico questo livello Ma scusami c'è una persona che lo sta facendo a piedi Ma come Aspetta prendo la tua macchina Prendo la tua macchina Ma l'hanno fatta sparire Prenda si è un po' distrutta la mia macchina Però prova No è sparita anche qua Ah ok Sto iniziando a capire Praticamente quando la fanno sponare ti sparisce Capito Si me lo immaginavo Quindi mi tocca andare a piedi E Stef arriva alla fine ed è salvo Ma ce la posso fare a saltare Non lo so mi tocca far tutto a piedi ma ti sembra Arrivo Arrivo Eh sì lo so che bisognava correre però Aspetta mi prendo il checkpoint e provo a tornare indietro Carina ma ci guardiamo un bel programma televisivo Dopo che siamo scappati C'è da Jason Guarda c'è pure il caminetto La cosetta da mangiare Una piantina La tv gigante Vediamo che c'è il piano sopra Vieni 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 Secondo me c'è qualcosa di brutto No ci sono dei divani e guardo un cinema Aspetta Ma si può accendere? Sì Aspetta Dai che ci guardiamo un bellissimo film Yeah Oh bello Guarda ci fanno vedere i paesaggi Le vacanze C'è queste cose I fiori I fiori Bello vero? Molto Molto Lo vorresti vedere tutti i giorni alla tv no? Secondo me ha vinto un sacco di Oscar In ogni caso ci vediamo così Fateci sapere se vi è piaciuto questo video Con due escape Se vi piace l'idea di farne due Dato che uno secondo me durerebbe troppo poco Quindi fateci sapere un pochettino Se ne volete vedere altri Se vi piace l'idea dei due E il secondo mi è piaciuto più del primo Anche a me Ci tengo a precisarlo Mi è piaciuto davvero tanto I livelli erano un po' più complicati Più carini esteticamente anche a me E poi c'era una storiella dietro Capito? L'ho apprezzato di più Era un po' più originale Mi è piaciuto un sacco Bene ragazzi Il video è uscito così Lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti